Sono 556 nuovi casi oggi in Abruzzo, circa il 13% dei 4.184 test processati. I nuovi contagiati hanno età compresa tra i 4 mesi e 95 anni. 115 sono in provincia dell'Aquila, 141 in provincia di Chieti, 33 nel Pescarese e ben 232 nel Terramano. 6 invece provengono da fuori regione, mentre per 28 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 893, di età compresa tra 71 e 89 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Terramo e 1 in quella di Chieti. Attualmente in Abruzzo vi sono 18.192 positivi accertati, più 152 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. 714 pazienti sono ricoverati in ospedale, in terapia non intensiva. Sono 55 in più, aggiungendo anche i 29 ricoveri di ieri. Mentre 76, più 1 rispetto a ieri, sono ora in terapia intensiva, occupando circa la metà dei posti letto disponibili. Gli altri 17.402 positivi sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità.